Il giorno dopo il Consiglio Comunale dove si è comunque notata questa spaccatura all'interno della maggioranza con insieme a sinistra e Progetto Lanciano che hanno presentato una mozione contro l'ampliamento della discarica di Cerratina. Si sta ricomponendo la maggioranza? Oggi non ho sentito nessuno, però nessuno mi ha mandato messaggi negativi, quindi penso che il tempo potrebbe lavorare alla ricocitura. La maggioranza di Pupillo quindi tiene ancora insieme a sinistra, lo ricordiamo, esprime un assessore in giunta con la neodelegata Patrizia Bomba al Commercio. Sì, Patrizia ha ereditato le deleghe di Francesca Caporale, sono deleghe importanti in questa fase del Covid e penso che Patrizia sia la persona adatta a proseguire il lavoro di Francesca. Quindi si andrà verso la scadenza naturale? Beh, da parte nostra non ci sono problemi a proseguire. Al tempo stesso il sindaco Mario Pupillo al Tg Max ha dichiarato che questa mozione non comporta alcun obbligo dal punto di vista amministrativo. Sì, è vero, l'ho detto anche al microfono, ma era palese. È una semplice mozione politica che ribadisce una posizione politica da parte di consiglieri comunali di maggioranza su un lavoro svolto da questa amministrazione in nove anni sul tema dell'ambiente e della salute, in prevalenza nelle contrade a sud di Lanciano. Da parte mia e da parte di Insieme a Sinistra penso che non ci siano discorsi di quantità, è una questione di principio. Sono oltre 50 anni che quel territorio ha dato tanto, non solo a Lanciano ma anche al comprensorio in termini ambientali. Penso che per la solidarietà dovrebbero farsi avanti anche gli altri. C'è una proposta alternativa di Insieme a Sinistra per l'ampliamento della discarica o comunque per un'altra discarica che comunque servirà ad Ecolan e a questa SPA, società pubblica in house dei rifiuti della città di Lanciano Capofila e del comprensorio? Noi siamo una lista politica, non siamo dei tecnici, non abbiamo analizzato tutti i terreni dei 70 comuni circa che fanno parte di Ecolan. Penso che sicuramente se si volesse si troverebbe sicuramente qualche altro sito idoneo. La maggioranza infine ha tenuto durante il Consiglio Comunale per quanto riguarda gli altri punti all'ordine del giorno a cominciare dalla mozione presentata dallo stesso Sindaco per quanto riguarda l'ospedale Renzetti. Sì, sulla mozione dell'ospedale siamo stati sempre d'accordo perché è un'altra battaglia che ci ha visti sempre insieme ma abbiamo votato insieme alla maggioranza anche sul Torrieri, sulla nuova strada della scuola di Marcianese, gli altri punti all'ordine del giorno, la nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori del Comune e tante altre cose.